app per studenti smartphone e tablet sono degli strumenti utilissimi per studiare sia le superiori che all'università l'importante è ottimizzarli a dovere a seconda delle nostre esigenze se hai un iphone o un ipad puoi scaricare alcune applicazioni utilissime pronto a conoscerle come prendere gli appunti perfettamente all'università applicazioni da scaricare abbiamo selezionato 50 peppo che vi possono risultare utili per tesi tesine appunti e per preparare le vostre interrogazioni per rendervi la ricerca più pratica le abbiamo suddivise per ambito cliccate sull'ambito che vi interessa scoprite le app più utili per voi studenti e se non le avete scaricatele subito dall'apple store come organizzarsi al meglio con lo studio risorse utili per compiti e per scrivere tesine dizionario d'italiano completo completissimo dizionario della lingua italiana completamente gratuito pages incredibile programma di videoscrittura come word ma molto più bello numbers programma per creare in modo semplicissimo degli ottimi fogli di calcolo things avete bisogno di organizzare la vostra giornata studio ecco un ottimo task manager dragon dictation avete registrato le lezioni e ora dovete sbobbinare dragon dictation lo fa per voi immovie dovete realizzare dei video per la scuola utilizzate immovie sketchbook pro programma utile per chi disegna in digitale solver dedicata a chi studia economia è un'app in grado di eseguire calcoli complessi in maniera veloce e meno matematica uniconeo il prezzo 20 euro ma si tratta di un'app davvero ottima minnode se ami fare schemi questa è l'app che fa per te file test hai un buon metodo di studio supporto allo studio the elements a visual exploration volete un'eccezionale tavola periodica the elements è ciò che fa per voi poiché vi permette di vedere gli elementi in 3d in tutti i loro colori e sfumature artiches for ipad dovete consultare wikipedia fatelo con questa intuitiva app blackboard mobile learn se vuoi avere sempre a disposizione il tuo corso il programma delle materie i voti e tanto altro blackboard mobile è l'app giusta negli usa viene usata anche dai professori come territorio di scambio di informazioni e aggiornamenti tra loro e gli studenti traduttori di latino devi fare una versione e hai difficoltà per una frase il traduttore di latino risolverà tutti i tuoi problemi ted si tratta di una serie di conferenze che trattano di scienze ingegneria storia eccetera esse si tengono ogni anno alla e tutti i video sono disponibili con quest'app ml ascitation generator se devi scrivere una bibliografia iso urci ti aiuterà a farlo flash my brain se avete problemi con le lingue straniere oppure volete semplicemente una risorsa che vi aiuti nello studio di queste flash my brain sarà sicuramente di vostro gradimento text books un'app utile soprattutto agli insegnanti perché permette loro di creare dei libri di testo around problemi con la geografia scopri il mondo con around i matematica pro presente sia in versione gratuita lite che ha 1,59 nella versione completa è un'app utilissima per chi ha problemi con la matematica da non perdere il traduttore di latino tutte le risorse per prendere appunti e vernote app gratuita utilissima per prendere appunti note creare programmi e appuntare i compiti da svolgere dropbox vuoi portare ovunque la tua tesi i tuoi appunti i tuoi riassunti con dropbox puoi avere sempre a disposizione anche offline tutti i documenti che vuoi instapaper l'app indispensabile per leggere le vostre pagine web preferite anche quando siete offline penultimate la migliore app per prendere appunti e disegnare a mano libera notes plus app utilissima per prendere appunti permette sia di scrivere che di registrare goodreader dovete inviare i vostri appunti agli amici oppure sono loro a doverli inviare a voi con questa potete mandare tutto direttamente dal vostro dispositivo apple mediante connessione wifi che con collegamento usb simple note una delle migliori applicazioni per prendere appunti semplice e immediata si può sincronizzare anche col computer mac come prendere appunti perfetti a scuola organizzazione studio outsliner for ipad ti devi organizzare lo studio con quest'app lo puoi fare ti permette di creare una scaletta di tutte le cose da fare i studiets pro un vero e proprio diario che ti permette di scrivere l'orario delle lezioni i compiti assegnati ai programmi per la giornata mi home work app simile alle due precedenti in class anche quest'app permette di segnare gli orari delle lezioni e i compiti permette anche di inserire un alert che avverte lo studente quando è vicino alla scadenza per un compito un esame priority list oltre agli impegni scolastici permette di gestire anche quelli extrascolastici file test quanto ne sai d'inglese comunicare e condividere im più pro vuoi shattare contemporaneamente su msn skype facebook eccetera scarica quest'app wordpress hai un blog o un sito da gestire su wordpress utilizza l'apposita app friendly plus for facebook l'app per utilizzare facebook sul tuo ipad tweet utilizzi più di un social network scarica tweet che potrai utilizzare più account con un'unica interfaccia viber devi chiedere una cosa a un tuo compagno a ma non hai soldi nel cellulare se il tuo amico dispone di un dispositivo apple ipod touch ipad iphone puoi chiamarlo e mandargli sms gratuiti grazie a viber file test quanto ne sai di geografia divertirsi dopo lo studio si tratta di videogiochi netflix screbbe gli apps un'ounda veditorium pandora how to cook everything angry birds uno nomi cose città sociale plus tipo apostrofo interessare anche dal prossimo anno obbligatori i libri tutti digitali ipadizzati a scuola gli studenti potrebbero utilizzare solo i tablet per studiare india tablet gratis agli studenti 60.000 appunti gratis sul tuo iphone o ipad tutte le app di studenti it e e e e e e Grazie a tutti.